Buongiorno a voi, sono Giacomo Mazzilli, un vostro collega da Basilicata, e sono stato scelto dai presidenti regionali a presiedere la Giunta Nazionale, l'organo consultivo che ha il compito di raccordare il lavoro delle regioni con quello del Comitato Esecutivo, di portare alla voce dei territori le loro istanze all'attenzione degli organi della Federazione, ma soprattutto sono un agente immobiliare come voi, con una piccola agenzia in una piccola città, che ogni mattina assieme alla segretaria comincia a lavorare, prendendo in mano l'agenda degli appuntamenti di vendita e di fitto, cerca di scoprire le esigenze dei clienti e proporre le soluzioni per migliore servizio, che parla con il cliente, che cerca di ascoltarli, di comprendere le loro esigenze, che mette a loro disposizione tutta la preparazione professionale e gli aggiornamenti che FIIP ci eroga ogni giorno. La sera sono quello che esce per ultimo dall'ufficio, che abbassa la saracenisca dell'agenzia, che chiude la porta, contento di avere ancora fatto questo nostro bellissimo lavoro, dare la casa agli italiani e ai nostri clienti. Voglio dirvi brevemente come immagini il nostro lavoro e il motivo per cui ho dato la mia disposibilità per presiedere la Giunta Nazionale. Il nostro lavoro è fatto di competenza professionale, capacità di relazione e voglia di lottare ogni giorno come se fosse il primo giorno che entriamo nella nostra agenzia. Per fare questo nel migliore dei modi abbiamo bisogno di fare squadra, di avere dietro un'organizzazione che ci tutela e che comprende le nostre esigenze, che cerca di anticipare i momenti del mercato anche prima che avvengano e che ci dà i mezzi per farci trovare preparati al loro arrivo, che sappia creare un collegamento tra ogni singola agenzia e il mondo che ci sta intorno, fatto di globalizzazione e cambiamenti quotidiani. La Giunta Nazionale è uno dei meccanismi di questa macchina a servizio degli associati. Io ogni volta che mi occupo della Giunta Nazionale e del mio collegio regionale voglio contribuire perché questi meccanismi lavorano in modo migliore, che possono essere perfettamente funzionari per mettere a tutti gli agenti immobiliari, dal Trentino alla Sicilia e alla mia bellissima Basilicata, di essere ogni giorno presenti, pronti ad aiutare il cliente che ci dà la sua fiducia. Ecco cosa è per me la Giunta Nazionale, che ho l'onore di presiedere e la cinghia di trasmissione delle istanze che da ogni agenzia giunge ai colleghi provinciali, che arriva ai collegi regionali e l'organo che chiede al Comitato Esecutivo, ai colleghi che parleranno proprio di me e per ogni settore, di fare proprio le necessità e le urgenze di ciascuno di voi, di ogni agente immobiliare presente sul territorio, che ogni giorno, come me e come voi, cerchi di fare sempre al meglio il proprio lavoro. Il nostro lavoro è la fonte di sostentamento per le nostre famiglie e per le famiglie di altri professionisti, artigiani, commercianti, operai che lavorano nella filiera della casa. Dobbiamo sempre tenerlo presente e ribadirlo a chi vede la mediazione immobiliare come un'attività marginale. La filiera dell'utilizza, delle case da vendere, da comprare, da affittare, dei locali, dei campani non industriali, muove il 20% del PIL, il prodotto intorno all'ondo italiano. E noi siamo coloro che ogni giorno non facciamo altro che trasformare queste opportunità in lavoro e guadagno. Noi siamo l'ingranaggio della filiera del mattone, che permette di vedere realizzare gli sforzi di tutti quelli che vengono prima di noi, di vedere il giusto risultato economico di tanti sacrifici. FIAP è il maggior sindacato di categoria, di coloro che fanno tutto questo, che intermediano, che fanno comprare, vendere e mettere a reddito il patrimonio immobiliare. Ed io mi occupo di uno di questi organismi, che fa funzionare al meglio FIAP, che collega l'attività di rappresentanza territoriale a quello dei settori, della base ai vertici. E quando lo faccio, ben presente dell'importanza del lavoro di ogni singola agenzia, che unita alle altre decine di migliaia di agenzie, la mia, la vostra, fa girare tutto questo e lo fa bene, sempre meglio, perché lo fa con l'aiuto di FIAP, l'unica associazione degli agenti immobiliari per gli agenti immobiliari, senza la tutela di altri enti soprastanti a noi, ma con il solo obiettivo di rispondere ai propri associati. Concludo dicendo che la Giunta nazionale ha ben presente le nuove sfide, la necessità di comunicare sempre meglio e più velocemente direttamente con gli associati, con i social network, con le nuove tecnologie e far comprendere al cliente che siamo sempre presenti in tutto e dappertutto, di fare un gioco di squadra dove la zona sia corta, dove dal portiere all'attaccante tutti sanno perfettamente qual è la strategia di squadra. Il nostro obiettivo è far goal, di servire a ciascuna agenzia i palloni giusti per andare in rete, ogni giorno, in ogni agenzia. Questo è per i miei FIIP, una squadra. Buona giornata a tutti.